ciao a tutti da Out of Bit e da Tony Sauffa oggi andiamo a recensire il Samsung Galaxy Z Fold 3 dopo qualche mese di utilizzo in realtà sono quattro mesi che lo utilizzo sono un felice possessore di questo fantastico smartphone e prima di iniziare questa recensione vi dico che la prima fase iniziale quindi non farò unboxing vedremo direttamente nel concreto come questo smartphone cioè la mia personale opinione in quanto ha avuto il Samsung Galaxy Fold 2 come questo 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 upgrade questo questa versione 3 prima di tutto se siete al primo pieghevole la prima sensazione che avrete quando andrete a fare l'unboxing e accenderendo lo smartphone e aprirete il display è una sensazione assolutamente fantastica di stupore quindi direte minchia fantastico questo smartphone bellissimo il problema è che se venite come me da un altro pieghevole quindi un precedente per i pieghevole che può essere un un flip oppure come me un fold 2 rimarrete un po perché in pratica ed è uno dei punti secondo me peggiori del fold 3 è assolutamente il design identico al fold 2 quindi diciamo che adesso parlerò quella che secondo me i pro e i contro di questo smartphone partendo dai contro allora come vi ho appena detto i contro sono un design assolutamente uguale al fold 2 e questo secondo me penalizza moltissimo diciamo lo sviluppo di Samsung su questo terminale lo penalizza perché comunque avrebbe dovuto dare qualcosa di più più tecnologico da un punto di vista estetico e di design ma purtroppo è uguale così come uguale la camera di questo fold 3 per intenderci escono ottime foto e ottime video però anche qui in questo caso avrei preferito un upgrade con anche una fotocamera da 108 megapixel ammesso che faccia necessariamente foto migliori rispetto al ad una fotocamera da 12 megapixel quale questa ripeto non scenderò nei dettagli tecnici vi metterò in sovraimpressione quelle che sono le caratteristiche tecniche ma l'obiettivo di questa recensione non è come fare la lettura delle caratteristiche tecniche bensì vedere cosa ne penso dello smartphone altra cosa secondo me un po negativa è in pratica fatemi aprire una foto ok è il la fotocamera anteriore diciamo sotto il display i pixel si notano abbastanza non so se riuscite a vederli ok anche se poi con l'utilizzo effettivamente uno non ci fa più caso però ci sono altri competitors che hanno migliorato questa questa caratteristica e avrebbe potuto fare sicuramente meglio samsung altra cosa che secondo me è un po' penalizzante per quanto riguarda il fold il fold 3 bene la novità dell'approccio alla s pen fold edition che io però è una bestia troppo grossa cioè avrei preferito una penna come il note che è anche possibile metterla diciamo e portarla dietro in modo più più semplice questi sono i contro che io attualmente ho riscontrato su questo fold 3 adesso passiamo ai pro se l'ho comprato è perché sicuramente i pro sono maggiori dei dei contro anche se poi i contro e pro si possono soltanto verificare utilizzando effettivamente lo smartphone e quindi a priori non è possibile farlo comunque passiamo ai pro il vetro pieghevole di questo fold 3 lo trovo nettamente migliore rispetto a fold 2 nel senso che le pieghette che normalmente si notavano nel nel fold 2 cioè proprio il display presentava quando lo si metteva contro luce soprattutto in nero si notavano delle diciamo delle ondulature delle ondulazioni proprio come se questa parte di display credo che non è pieghevole fosse anch'esso un po troppo morbido l'hanno migliorato tantissimo tant'è che vedete c'è l'esperienza d'uso è sicuramente migliorata ed è fantastica altro vantaggio come ve l'ho detto prima è comunque l'inserimento della fotocamera della fotocamera del fotocamera sotto il display quindi nascorsa dal display anche se è migliorabile l'ho criticata da qualche qualche minuto fa qualche secondo fa comunque un'ottima soluzione e samsung avrebbe potuta potuto non metterla altra altro vantaggio che sicuramente apprezzato in quanto io sono un notista puro è comunque la possibilità di avere la s pen da poter utilizzare su questo smartphone male il fatto che non possa essere utilizzata sul display esterno perché comunque si può utilizzare solo sul display interno ma comunque è un'ottima soluzione ho fatto e caricherò dei video sulle migliori cover per z fold 3 con alloggiamento s pen che vi invito a vedere quando li pubblicherò il firmware è sicuramente ottimo c'è in pratica la possibilità di poter andare a personalizzare il layout del fold 3 e di sfruttare anche il pannellino la possibilità di piegare lo smartphone sono assolutamente il plus di questo smartphone a differenza di altri pieghevoli ammesso che ce ne siano sul mercato effettivamente è il plus sicuramente maggiore foto e video sono ottimi c'è comunque la fotocamera è un'ottima fotocamera permette anche di impostare la possibilità di fare tante altre cose simpatiche e diverse con con lo smartphone e foto e video sono ottime cioè comunque non ho notato sostanziali differenze macro rispetto all s21 ultra che ho avuto fino a qualche settimana fa ovvio che poi quando si va a fare un crop cioè ad ingrandire l'immagine la differenza di megapixel si vede però comunque è un ottimo smartphone che vi farà sempre ottimi video e ottimi foto la batteria di questo fold 3 ripeto io sono diversi mesi che ce l'ho è assolutamente in linea con quella del fold del fold 2 ovviamente anche in questo caso mi sarei aspettato qualcosina in più anche perché venendo dall s21 ultra che ha una durata veramente assurda cioè il s21 ultra è il miglior smartphone top di gamma samsung che io abbia mai avuto sotto questo punto di vista cioè batteria veramente veramente ottima non vi dirò quanto faccio con i video con diciamo con numero di ore display e quant'altro perché è una cosa puramente soggettiva dipende da persona persona da smartphone smartphone da configurazione a configurazione quindi secondo me è il confronto lo si può fare solo con con se stessi e quindi vi posso dire che è ottimo il processore questo snapdragon che è stato molto criticato per quanto riguarda i consumi ma soprattutto il fatto che scaldasse sinceramente a me non scalda mai 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 boh sarò fortunato io o sarò poco schizzinoso non so ma comunque non trovo problematiche al riguardo se vedete la home che diciamo carica lentamente quando lo apro è perché io nuova launcher e comunque non è ancora ottimizzata al massimo su questo display quindi non è un lag della hawaii 4.0 migliorato rispetto al fold 2 e leggermente lo spessore risulta leggermente più sottile il che questo non non guasta comunque lo smartphone abbastanza sottile certo importante non è per tutti sia come prezzo ma secondo me soprattutto come dimensioni per poter portarlo poterlo portare dietro però lo spessore è migliorato qualcosina ma è migliorato poi ultima cosa è l'introduzione di questo colore che un verde diciamo petrolio satinato sto notando che ultimamente samsung ha migliorato io l'ho criticata tantissimo samsung ormai da anni oltre perché per la batteria anche per il design che secondo me è un po da rivedere il design di alcune linee è da rivedere ma anche i colori e il percepito dei materiali in questo caso questo verde satinato oltre ad essere molto bello è anche da una sensazione premium ancora di più allo smartphone perché è satinato e anche i bordi sono sono satinati qui lo vedete lucido perché io ho le pellicole protettive perché ci tengo al mio smartphone anche in questo caso il modulo fotocamera ho messo una 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 ghiera protettiva affinché non si graffiasse quindi non è quella quella originale ci tenevo tanto a recensirvi questo fold 3 che in fin dei conti ritengo uno smartphone assolutamente fantastico io mi trovo benissimo e credo che sarà oltre al note 22 ultra che prenderò appena uscirà per il discorso s pen ritengo uno smartphone veramente fantastico si tiene bene in mano la maneggevolezza c'è bisogna abituarsi certo è tutto relativo perché è ovvio che uno smart qui sia doppio smartphone sostanzialmente sono due smartphone in uno però la sensazione è fantastica ripeto e concludo mi sarei aspettato di più da soprattutto da un punto di vista di design da parte di samsung perché non vale la pena secondo me oggi passare da fold 2 a fold 3 non ne vale assolutamente la pena prendete un fold 2 è uguale al fold 3 la s pen sinceramente io l'ho presa perché sono un fissato ma la utilizzo pochissime volte e poi è talmente grande che comunque mi risulta mi risulta scomoda utilizzarla quindi anche tutta questa questa comodità non la vedo cioè non mi trovo bene a scrivere con questa penna così così grossa mi trovo meglio con una s pen classica da noto più piccola quindi questo è tutto fate i bravi iscrivetevi al canale youtube iscrivetevi al canale telegram samsung galaxy modding italia per rimanere aggiornati su tutte le ultime noita in termini di modding cazze e mazzi no però ho promesso di non dire troppe parolacce non le ho dette ragazzi alla prossima fate i bravi e buon anno a tutti